Io vorrei restare ancora su questo tema un momento, perché credo che la battaglia sull'etichettatura possa portare dei risultati, ma nel momento in cui c'è anche una campagna di promozione di questo marchio molto importante, ormai il marketing e l'affermazione del marchio sono alla base della valorizzazione economica di un prodotto. In Italia c'è qualche esperienza, mi viene in mente Italia Leva, mi viene in mente Itala e qualche altra esperienza di privati, ma questa frammentazione, oltre ad essere una frammentazione di risorse e quindi di efficacia, non può creare anche un po' di confusione nel consumatore? Anche qui non varrebbe la pena che ci fosse una regia comune del Ministero su una campagna di promozione, su un marchio che racchiuda tutto il prodotto italiano, il latte in questo caso? Questo è vero, nel senso che stiamo parlando di marchi e l'etichettatura sono un po' due robe diverse, nel senso che questi sono marchi commerciali di qualità, l'etichettatura, cioè noi immaginiamo un cartone di latte dove ci sarà scritto come accade per l'olio, italiano, miscela di oli italiani, spagnolo, questo ci sarà scritto sul cartone di latte. Però va promossa come un marchio, se vogliamo che si affermi. Ecco, la prima risposta io direi, quello che dicono a Harvard, too much information, zero information, cioè troppe informazioni, zero informazioni. E noi abbiamo limite, abbiamo talmente tanta roba da promozionare, cibo da promozionare, che a volte è un fattore limitante, se tu hai solo il salmone che risale i fiumi nel nord Europa, ci fai una campagna su quello. Noi abbiamo 4.500 prodotti tipici, dei quali 182 sono DOP o IGP. Secondo aspetto, noi sicuramente abbiamo l'etichettatura, ma su questo ragionamento dobbiamo coinvolgere il consumatore, nel senso che dobbiamo portare il consumatore a scegliere e iniziare a leggere le etichette. Ma questo accadrà, c'è un esempio eclatante, che funziona per un verso ma non per l'altro, o quantomeno, diciamo che è passato il concetto. Cioè tutti si preoccupano della tracciabilità, no? Sembra che mettere la tracciabilità nel latte, ve lo dice uno che ha avuto tutte le polemiche, sia la fine dell'industria, della fine dei formaggi, la fine di tutto. Tranne che degli agricoltori, a noi interessa quello. Ma ricordiamo che dal 1996 ad oggi abbiamo la tracciabilità totale sulla carne di bovino. A voi risulta che il sistema sia andato in tilt perché abbiamo la tracciabilità? Cioè chiunque va a fare la spesa può sapere dove è stato allevato il bovino, che età aveva la macellazione, di cosa si è alimentato, e c'è la tracciabilità fino in fondo. Questo a causa di vacca pazza. Noi dobbiamo fare un salto in più, far capire al consumatore che quell'etichetta deve essere anche un po' più, come si può dire, deve avere un po' di più appeal, cioè dobbiamo far capire che c'è il prodotto italiano e quello del resto del mondo. Per il bovino perché non ci riusciamo? Perché noi siamo degli ingrassatori, la linea vacca vitello da noi non è che... Quindi quando vediamo scritto francese, spagnolo, cecoslovacco, cioè non è che ci scandalizziamo perché funziona così. Ma per il latte, guardate che cambia, c'è legge su un formaggio, Lituania, Romania, perché se oggi fosse applicato dovreste leggere questi dati. Cioè voglio vedere chi va a comprare, sapendo che qua esistono le latterie che producono e fanno formaggi. Questa è la sfida. Quindi la sfida che il consumatore accoglierà sicuramente, secondo me. La domanda della collega. Praticamente la mia domanda è una prosecuzione di quella che ha fatto il dottor Rizzotti, perché la domanda volevo fare sulla programmazione della produzione. Rispetto a questo volevo aggiungere due cose. Una sono i dati del Grana Padano, perché il Grana Padano, che ha avuto una flessione particolarmente elevata tra luglio ed agosto, perché è arrivato sui 5,13, 5,30, negli ultimi mesi, grazie proprio ad un recupero della programmazione, o meglio, una minore emissione sul mercato delle forme, perché c'è stato, diciamo così, comunque nell'ambito del piano una stabilizzazione, è riuscito a recuperare, mi pare, intorno ormai al 15% di quello che è il prezzo, perché siamo oltre i 6 euro. E questo ha dato anche una sorta di benessere rispetto alla filiera, quindi anche a chi ovviamente produce nell'areale, che è larghissimo, perché ricomprende quattro regioni, fra cui Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e il Trentino, mi pare, anche Trento. Tutto questo è un dato che è molto importante per, quindi, non soltanto le produzioni DOP, su cui noi stiamo spingendo, anche con il progetto che lei sta facendo come Ministero, sia per quanto riguarda poi anche, ovviamente, le stalle, e il grosso della nostra produzione zootecnica. Ecco, l'associazione è quella delle DOP e delle IGT, che ha fatto poi con voi anche questo progetto, che è l'ICG, ha stretto un accordo ancora due anni fa con l'associazione speculare francese di produzione di formaggi. E con loro sta portando avanti proprio una battaglia, sia per quanto riguarda l'ammasso, la stagionatura, che però per i francesi ovviamente è molto meno importante, ma anche per quanto riguarda la ricerca di una soluzione alla programmazione della produzione, che questa invece interessa anche loro. Ecco, io le faccio una domanda, diciamo così, di scenario. Secondo lei, che possibilità ci sono di portare a casa un risultato dell'Europa su questo? Elevatissime sul fronte dei DOP. Sugli altri fronti penso sarà quasi impossibile, ma sul fronte dei DOP assolutamente sì. Cioè io ho molte speranze, nel senso che questa è una richiesta che comunque è in linea con il momento di difficoltà. Il varco adesso è molto ampio per buttarsi dentro e quindi per approfittarne, perché comunque è una crisi così lampante. L'ultimo Consiglio di Ministro l'abbiamo fatto a Lussemburgo, in Lussemburgo, si è stati ostaggi 5-6 ore degli agricoltori. Cioè 27 ministri era ostaggio. Per cui anche questa pressione è positiva rispetto alle scelte che il Consiglio di Ministro dovrà fare.